Caro Juan Manuel, tu sai che l'Italia dopo un po' di difficoltà si è rimessa in moto, ancora tu conosci bene l'Italia, ancora le cose sono un po' divise, ci sono come due Italie, c'è un'Italia al nord del nostro paese che va meglio della Germania, l'Italia del nord è il paese più forte a livello economico in Europa, quella regione lì, quella zona del nord e del nord-est in particolar modo, è la regione numero uno in Europa come capacità di crescita, come adattamento. Abbiamo qualche problema ancora nel nostro sud, ma proprio oggi per la prima volta sono usciti dati in cui torna al segno più anche il sud. Bene, mi piace l'idea che sia una buona notizia questa, perché l'Italia possa tornare a fare ciò che deve fare non soltanto in Europa, ma anche in America Latina e contemporaneamente che insieme, con l'allegria tipica dei nostri popoli, possiamo riprendere in un momento di crisi della politica il filo di quella straordinaria stagione che è stata la terza via e che ha prodotto dei grandi risultati nel mondo, ma che oggi ha bisogno di nuovi interpreti. E tu, caro Presidente, sei sicuramente un modello e un punto di riferimento per molti di noi.